Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò un piccolo trucco in Windows 10 per non catturare con il microfono rumori esterni, come ad esempio il condizionatore, la ventola della PlayStation o addirittura l'eco del microfono. Durante le mie live e nei miei video mi sono accorto che questi suoni o meglio dire rumori venivano catturati e non capivo perché dato che possiedo un microfono decente, anche insonorizzato. Così, diciamo, sono andato un po' a smanettare nelle impostazioni del sistema operativo ed ho scoperto una cosa banale ma funzionale. In pratica, nel caso ovviamente non lo sappiate, se vi trovate in una stanza non insonorizzata e avete condizionatore, ventole accese di ogni tipo e non volete catturarle durante la registrazione della vostra voce, tutto quello che dovete fare è andare sull'icona dell'audio con il tasto destro, poi su suoni, registrazione, assicurarvi ovviamente che sia attivo solo il microfono che state utilizzando, cliccate due volte, andate su livelli e impostate un volume massimo di 70. In questo modo il microfono cattura solo la vostra voce. Naturalmente dovete trovarvi vicino al microfono, ma se voi mettete il microfono a 100 e il microfono è abbastanza potente, cattura anche i suoni esterni, quindi distanti come il rumore del condizionatore, le ventole della Playstation e così via dicendo. Se avete acquistato un microfono elgato con il filtro che va montato avanti e lo posizionate a 70 massimo, se scendete un po' è meglio, come volume e vi posizionate davanti al microfono sia nelle live sia nei video, non catturerete più suoni esterni, rumori esterni. Quindi la vostra voce, come potete udire in questo video, è pulita. Quindi cliccate su ok, ok e il gioco è fatto.